Ha 19 anni e nonostante la sua giovane età, è stato eletto artista dell'anno nella sua nazione che è la Bulgaria. Signore e signori, Angel Bosilov! Signore e signori, Angel Bosilov! Angel Bosilov viene da una famiglia di grandi artisti del circo e la bella assistente che lo accompagna è sua madre ed è a sua volta una bravissima trapezista. Grazie! Bravo! Bravo! Quello del giocoliere è un mestiere che sembra facile ma in realtà è difficilissimo. Angel, come tutti i giocolieri, ha cominciato da bambino ed ora è una delle stelle più grandi del circo bulgaro. Grazie! 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 Grazie a tutti.